Il tirapugni lo porto, ma non ti so mai. Sì, 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 perché sono più sereni. Allora posso litigare con tutti il rifugio. Allora, questo, la telecamera la posso portare? Ma certo che sì. No, non portarla, lascia stare. Quando tiriamo i pugni con il tirapugni... Almeno noi lo prendiamo. Il fungalo non è preciso, la precisione. Quando uno controlla tutto, l'attrezzatura, non ha mai sorpreso. Nadia, ti sembra che lui è un fungalo? Anche il manutentore mi chiamavano. Fongalos o il manutentore? Genta a cui si affidano a te per fare la manutenzione degli attrezzature. Vai Pierino. Di la tua, di la tua, di la tua. Di la mia, di la mia. Zorna. Bello. Di la tua, di la tua. Di la tua, di la tua. Mi chiamavano a teperle. Di la tua, di la tua. Di la tua. Di la tua. Di la tua, di la tua, di남ge. Mi chiamavano bewegenommen. Mi chiamavano hati per fare la torta. Già 400 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi è una giornata così, di avvicinamento, quindi alla fine ha senso più filmare queste cose, di acciaio. Ecco l'azienda, è un po' ci densato. Edio, sei mica preoccupato? Io assolutamente. La piccozza, ti piace la piccozza del Matteo? Guarda la piccozza del Matteo, perfetta. Guarda la piccozza del Matteo, perfetta. Guarda la piccozza del Matteo. 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 non voglio dire è sbagliato Nadia? un'impressione a caldo meglio non darla? no 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 un minuto facciamo due Elio? come ti è andata? non è stata molto faticosa assolutamente aspetta stavo saltando giù il balconcino qua non è niente male allora vorrei dirvi una cosa se guardate là in fondo aspetta dove è? là in fondo così quella là è il grignone quale? questo qua di fronte a noi così così si è certo è certo è lì che lì è il grignone si vede anche lei ma se tu guardi bene 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 va bene vabbè ma Nadia dimmi cosa pensi di questa esperienza che hai fatto ti basta dire che la vista dei è bene io penso che voi siete dei gran bastardi ok Gigi over the top over the top ma che spettacolo ragazzi Gigi 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 Gesù Pogli Gigi 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 Fulano Gigi Gigi Grazie a tutti. Eccomi qua, baci e felici in capanna, agici. Alba sul Monte Rosa, Gernadia, Francesco, Elio e Gianca, tutto a posto, ma che figata. Il Liscam. Ciao, ciao. No, ma tu puoi. Scusa, Andrea. Ciao, voglio solo immortalare questo momento di immensa... Questo è grande giornalismo, questo è grande giornalismo, è grande giornalismo. È grande tutto bene? È grande giornalismo, è grande giornalismo. È grande giornalismo, è grande giornalismo. È grande giornalismo, è grande giornalismo. È grande giornalismo, è grande giornalismo.